Il dato di Gela è eloquente, il no ha ottenuto il 72,1% dei riscontri, mentre il sì si è fermato al 27,9%, un divario nettissimo così come accaduto in tutta Italia. Dei 59.592 elettori chiamati alle urne hanno votato in 20.266, cioè dire il 47,3%. 12.409 hanno votato no, 7.857 sì. I giolesi hanno bocciato la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi, che ha subito un colpo durissimo e soprattutto il Partito Democratico, una vera e propria ammazzata. Avere sostenuto il premier Matteo Renzi, ritenuto dai giolesi, tra gli artefici della chiusura dello stabilimento Eni, ha pesato tantissimo. Esultano di contro il centrodestra e i grillini. E la vittoria del no ha portato ieri sera il presidente del Consiglio dei Ministri a rassegnare le proprie dimissioni. Mi assumo tutta la responsabilità della sconfitta, volevo ridurre il numero delle poltrone. La poltrona che salta è la mia, ha detto durante la conferenza stampa, convocata a Palazzo Chigi intorno a mezzanotte. Il premier ha fatto quello che aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale in caso di vittoria del no. Oggi convocherà il Consiglio dei Ministri, salirà al Quirinale e consegnerà le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. Tornando a Gela, ieri le operazioni di voto sono state bloccate per circa due ore in un seggio elettorale nel rione Villaggio Aldisio per le proteste di una elettrice, secondo la quale la matita fornita dalla prefettura non era copiativa, cioè dal segno indelebile, ma perfettamente cancellabile e dunque con lo rischio di possibili brogli. La prova della facile cancellazione l'avrebbe fatta le stesse in cabina, perciò ha chiesto una dimostrazione ufficiale irripetibile da acquisire gli atti davanti alle forze di polizia, riservandosi la ricorso alla magistratura. Il presidente del seggio e l'ufficio elettorale hanno preso verbale le dichiarazioni dell'elettrice e hanno fatto riprendere le operazioni di voto respingendone la richiesta. Le matite, provate dai dipendenti comunali su carta normale, sarebbero risultate perfettamente a norma.